ragazzi bentornati nel canale io sono io marcio 98 solito e oggi sempre for honor andiamo a fare qualche cosina con il berserker abbiamo anche la grazia di aver trovato una mischia attenzione ditemi cosa ne pensate del look di questo berserker donna questa è la versione donna del mio berserker a me sinceramente piace molto anche se sono ancora un po dubbioso per la scelta della palette di colori se avete di consigli ragazzi dateci dentro io vi saluto e ci becchiamo alla prossima bella o roccio o c'è l'oroccio ah non ho più stamina e se io no ci ho provato volle e light nice ha fatto un buon deflect prima quindi devo starci attento sì però beh sì sono stato un po predictable c'è questa possibilità in realtà sto cercando parecchio anche di baitare il suo attacco a zona ma beh ti è andata bene bro beh di nuovo l'attacco a zona paura mi fa ridere il nome di questo tizio si chiama mini putin come è mini putin lo so che lo sto spammando tranquilli mi rendo davvero conto guardatelo e potevo anche lasciarlo andare non sarebbe stato male dentro l'attacco in schivata davvero eh sì e top oh interessante schivi vabbè più o meno andava bene lo stesso dai l'ho preso dentro un attacco pesante o un attacco a zona no forse un attacco pesante invece che dentro la schivata l'importante è averlo preso ecco ottimo mi sono appena reso conto di che cosa ho appena detto ma vabbè non importa ragazzi fa tinte di non mmm ui 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 le lo scappo eeeh no eeeh no dai 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 ce la siamo giocata bene questa Ce la siamo giocata bene Lui ha giocato male Cioè ce la siamo giocata bene apparentemente Perché in realtà è lui che se l'ha giocata male Comunque Gigi dai Primo round è stato un po' scary Nel senso che quel deflect non me l'aspettavo proprio Però Gigi Grifon? Si chiama così? Lotto complimenti Questo lo lascio Per la scienza Che culo Mi Scappo Come facciamo vediamo Attacco zona Con che fatica infinita Eh vittoria Primo vittoria Eh Vabbè Guardate Questi mix up Eh ci sta No Ma davvero è fastidiosissimo Che non posso interromperlo Ah Ok quindi Attacco zona In teoria se fosse stato un attacco in schivata normale Teno dire classico Non sarebbe dato segno Avrebbe fatto whiff Ma vabbè Eh ok Ma oggi non mi interessa niente Anche se faccio figure di cacca Si tiene tutto Anche se dico robe che poi non è bene Eh guardate che roba No Per me non va bene sta roba Scappo Eh Eh che diamine Sì Eh dio santo Che range Sì Va bene Non so perché Mi sa che ho girato la guardia per sbaglio alla fine Uffa 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 Veramente ragazzi Gli eroi con la guardia che scade Contro questi eroi soffrono molto di più rispetto a quelli con la guardia che invece Sì Non scade Cioè chiaramente è quello che intendevo dire Sì Grazie Eh guarda la danni Guardate che roba ragazzi Guardate che danni I danni sono alti Non c'è niente da fare Eh adesso Eh invece niente Ragazzi ha schivato anche la soft paint Vabbè Allora io Credo toglieranno un po' di Frame di invincibilità Da quella schivata Perché Non pensavo inizialmente Pensavo fosse solo un'abitudine Invece effettivamente È un po' troppo forte Abbiamo Un giustiziero Non so se vorranno fare Real Brawl o che cosa Sinceramente Tocca zona Ok sì ho preso paura Perché sapete Giustiziero C'ha un raccovrino Pari a zero Uh ok Ah Però veramente Ok E sta lì Uh Fortuna Sti due signori Sono assieme E mi ha preso Grazie E via Ogni tanto è divertente Ogni tanto Un berserker Da qualche soddisfazione Ok Adesso Dovrò temere un po' di più Penso Come scusa Perché Ha fatto tutto da solo Il gioco Giuro Ragazzi Non so cosa stia succedendo Nella mia vita Bravo Eh Lui bravo Io cretino Invece Eh io cretino Perché ho sbagliato la punizione Non me la ricordo Mi sa che quella è da Perry Cazzo Per oggi voglio anche vedere Cosa sarà il mio compagno di squadra E lo vedremo insieme E niente Stai lendo Si diverte a fare così Sono contento di aver unito Chi lì assieme Perché No dai vabbè Non serve tanto Loro non ci stanno gancando Non ce n'è il bisogno E comunque Le tocchiri sono Non è che Tutto sto bisogno Di prenderti per forza La vita Avrebbe potuto lasciare andare Rotola fra l'altro Questi tocchiri Quindi Attacco zona Fai l'attacco zona Con l'attacco migliore del gioco Eh Venghi No Eh 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 Ah Ups Ho sbagliato Male Eh Emo Attacco zona For the win E light For the win Vabbè dai Dai È stato abbastanza easy Nonostante gli altri fossero Un team GG Anche il mio compagno Marzo 98 Di Mirano Che gioca For honor Ed ogni Due per tre Con lo sciogochi Lui lancia Un attacchio A zona E Eh Eh O Anche il mio compagno Yeah Atacchio La giificación E Zu